Dopo tante fatiche stiamo aspettando la coppia di punta di questa squadra, vedete qui affaticati i corridori che aspettano con pazienza i loro compagni, i loro compagni più forti direi, ma che oggi purtroppo sono andati paluccio, problemi di crampi alle gambe, evidentemente hanno sbagliato oggi l'alimentazione oppure hanno preso troppa caffeina. Sì, però fermatevi un attimo, potete affaccinare la croccia che se tu ci credo. Probè! Probè! Probè, probabilmente probè! Eh! Eccoli che arriva qualcuno, arriva qualcuno dei più forti! C'è solo Davide, Davide, non meno di Luca e Buccilli! Vedete, vedete tutto il gruppo paziente che aspetta i ragazzi più forti di questa squadra! Ha fatto una cosa straordinaria oggi! Eccoli, eccoli, eccoli all'orizzonte che appaiono loro i grandi, i magnifici di Luca Buccilli! Applauso, applauso! Behccanamo! EINE PREGNEDI! ECCOLO DI LUCA! ECCOLO LI LUCA! dove sta? ECCOLO! ECCOLO! Azzetato! SECONDI! Tu volte, Brasilia ora! Ti seiancho di sei non,... EXETATO! HOW ECCOLO! ECCOLO!!! all OK comma may lieeono, грamito sempre teo! Grazie a tutti.